Sì, è possibile effettuare la ricerca di un nostro vecchio post su Facebook Apriamo impostazioni e scegliamo lingua e andiamo ad impostare inglese serviamo la modifica torniamo alla home page nella barra delle ricerche scriviamo l'argomento io voglio ricercare un mio vecchio post sul nuovo mercato e squilino ed ecco qua queste sono tutte le foto che ho pubblicato sul nuovo mercato squilino voglio il post ecco il post che cercavo settembre 3 2017 vedete e poi hanno tutte le foto con i post 3 settembre 2017 3 settembre 2017 3 settembre 2017 semplice no? ciao a tutti grazie a tutti